Palazzo e Parco Torloni, restituiti alla comunità abruzzese, diventano il centro popolare di importanti iniziative culturali e sociali nel 2018. Un ricco cartellone culturale che passa attraverso il coinvolgimento di tre istituzioni, il Consiglio regionale, il Comune di Avezzano e la Prologo di Avezzano, ognuna delle quali organizza una serie di eventi nella prestigiosa sede della città di Avezzano. Dal 28 luglio al 5 agosto si terrà infatti la settimana marsicana, organizzata dalla Prologo di Avezzano. Dal 12 agosto al 25 si terrà invece la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Avezzano, mentre dall'8 agosto fino ad ottobre sono in programma otto appuntamenti istituzionali curati dalla Presidenza del Consiglio regionale. Poi ci sono queste otto iniziative dell'ufficio di Presidenza che sono le istituzioni incontrano i cittadini, che vanno dalla storia del Parco Torlonia e Villa Torlonia, incontro con la musica abruzzese, incontro con il sistema delle realtà abruzzesi per far conoscere questo progetto sull'idrico integrato nel Fucino, incontri con le università abruzzesi per far conoscere le nostre università le migliori eccellenze, insomma una serie di attività che coinvolgono cittadini e istituzioni. Il Comune di Avezzano ci ha chiesto di poter organizzare circa mi pare 11-12 rassegne di teatro amatoriale all'interno e quindi si è formato un carnet di iniziative che possono essere gustate non solo dalla collettività regionale abruzzese ma anche dai cittadini limiti alla nostra regione. A fare il punto sugli eventi organizzati dalla Prologo di Avezzano è il suo presidente Federico Tudisco. Sono 114 eventi e sono ripartiti, se così possiamo dire, in settori, cioè una trentina dedicati alla cultura e oltre 20 allo spettacolo, poi sono per l'intrattenimento dei bambini e poi ci sono quelli sull'enogastronomia. Naturalmente in più importanti per ogni settore sono quelli più importanti. Io vorrei sottolineare quelli nel mio ambito dello sport, ci sta una giornata che è dedicata ai diversamente abili, quindi una giornata dedicata solo a loro e io mi pregio, anzi mi vanto di questa cosa che siamo riusciti a farla perché non è facile fare una cosa del genere, ma anche tre mostre tematiche che partecipano tre musei nazionali a esporre le proprie mostre in Avezzano. Niente, la settimana marsegana rappresenta la festa della città d'Avezzano perché poi di fatto Avezzano non c'è una festa ben definita come l'Aquila con la Perdonanza oppure addirittura Sulmona con la Giostra.